Ok, buttato una a terra, accidenti, un altro qua, un altro qua È l'ultimo, è l'ultimo Vai Yes! Bravi Giacomo, bravi Ale! Che team perfetto che abbiamo Grandi! Aprimi il microfono Che team perfetto! E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E sono Stef, che senti come Fortnite E benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite In cui stiamo nuovamente con i nostri iscritti Questa volta però a squadre Quindi avremo due consolini che giocheranno con noi E speriamo che abbiano il microfono Così possiamo anche parlare Sarebbe fantastico Quindi stiamo giornando come completamento in team Avremo due iscritti a caso Quindi due consolini a caso Che giocheranno in squadra con noi E saremo ovviamente contro altre squadre In questo momento vedo che ci sono collegate 53 persone Dato che comunque era un po' più complesso Gionare questa volta nel server Perché bisognava cambiare modalità Però speriamo di riuscire nel mentre in questo minuto che manca A riempirlo completamente Vedo che siamo già in 58 E a fare un match con 100 player A squadre con due consolini casuali Sarebbe benissimo Non so se ci capita gongsi Io lo kicko Cioè lo sparo No anch'io lo sparo Perché potrebbe capire Ma perché ci fa gongsi No non lo so Ma perché è sempre gongsi Viene sempre Lo sai come fa Però spero che non ci capiti Voglio dei consolini Voglio dei consolini Anche io Ci siamo Ci siamo Mi sa che siamo una settantina Quindi va benissimo Abbiamo Alle 0825 Giaco332 Proviamo a comunicare Ciao 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 Eccoli Dobbiamo vincere Pronti Meno male che uno dei due ce l'ha al microfono Bene 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 Per le prossime volte Se avete un microfono Mi raccomando Attaccatevelo Così possiamo anche parlare Questa qua sarà la moneta che genereremo di più Perché così giochiamo proprio con voi Anche in squadra a caso Ed è una roba tipo troppo bella Credo che sti server fareli useremo costantemente Oh a voglia 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 E vedi altri player Eh per ora no Vero Qui c'è subito una cesta E io cado di sotto Vabbè Mi sa No mi sa che siamo scesi qua da soli Bene 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 Facciamo un inizio abbastanza tranquillo Allora Qua c'è una bella trappola Che bella è un Parolone Perché? Sì E beh perché sai Che cavolo È già pieno di gente che si fa fuori Stef Saranno scesi tutti assieme Sai perché Mi sa che siamo passati Proprio sopra una città Bruttalmente Vabbè Quindi credo che un po' di consolini Non abbiano resistito E si sono buttati lì Eh ma è giusto Eh sì Qui c'è una pistola verde Che fa anche più schifo Della mitraglietta A tre colpi Fare io sfiga? Eh? Io sfiga Eh anche io abbastanza Te lo dico Te lo dico Ti avviso prima Così almeno sei pronta Meno male che il consolino Almeno ha degli scillini Perché manco quelli ho visto Io ho trovato due shield Di quelli grossi Quindi comunque sono riuscita Ad avere lo shield pieno Che non è male Guarda l'unica cosa bella È che è una pistola silenziata Aspetta Che c'è? Che c'è? Mi ha dato uno scillino E gli ho fatto un ballo Per ringraziarlo Allora Vediamo se qua Trovo almeno un fucile decente Ma non credo Ma forse è l'M16 Ah Anche se è bianco Ci giuro Che in questo momento Per me è già un lusso Facciamo così E andiamo Allora Siamo dentro la zona Andiamo verso Salti Springs Sì Dai ci sta Non sembra luttato Qui non è luttato Cioè sono entrato Alla prima casa che c'era Andiamo 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 Ho trovato pure un fucile a pompa verde E beh Io direi che a sto punto qua luttiamo Cioè Ho trovato l'M16 Blu Questo è bello Questa è la felicità Ho vinto io RPG Oh Vabbè ma così RPG blu Sì Dentro una cesta è totalmente a caso Qua si inizia a far su sé E qua si tirano le botte E qua si tirano le botte Preparatevi perché partono botte per tutti Ce lo dici tu Lancia raggi per tutti E c'è un'altra cesta E c'è un'altra cesta Sta qui sopra Quindi facciamo così Sondiamo questo soffitto Vediamo Se mi va di nuovo bene Cosa vorrei? Fere Che c'è? Guarda il mio schermo Ops Che schifo Ma poi dico Allora Nel game in cui dovevamo cercare questa Zero L'abbiamo vista solo alla fine Cioè adesso la troviamo sempre Perché abbiamo trovato anche nelle partite di single Fa parte di noi adesso Vabbè C'è in coppia dico Vabbè Se i consolini non l'hanno visto bene in quel video Lo vedranno bene in questi video Giustamente Giustamente Almeno c'è il positivo Che poi tu prima l'hai trovata ma non l'hai usata vero? Eh no Non l'ho usata Perché alla fine eravamo nei fight finali E non ho avuto modo Hai fatto bene Hai fatto bene E più arma penso da vicino Sai però mentre c'era quel consolino finale che correva Per effetti per distruggere le costruzioni Lì in quel momento era l'arma perfetta Eh beh sì Io non ce l'avevo l'avevo usata in quel momento Sai che cos'è? Non l'avendo mai trovata Non mi viene da utilizzarla E di quelle armi che sono strane Quando sei concentrato non ci pensi Capito? Lo so È successo quello Gonx ha tramortito Dead Rock con un fucile Eh Gonx è forte oggi Però aspetta Ho il cuoricino Posso tirarti il cuoricino Giacomo Io voglio ammazzarla Gonx Lo voglio trovare Che carino Allora Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Non ho idea Siamo abbastanza al centro Magari seccare un airdrop Andiamo a cercare quello Vediamo se lo si trova Ok Allora Gatling 168 192 7 razzi Fucile a pompa Però ho messo troppo male il fucile a pompa Facciamo una roba del genere Ho anche un medikit per full armi 75 di scille Io sono a posto Fere Sinceramente Sì Sì Abbastanza pure io Questo è mio Questo è mio Lo volevo anche io Vabbè dai prenditelo vai No dai Sono gentile oggi Prenditelo Sono messo meglio Vai prendilo prendi Sono messo davvero bene Io non ho bisogno di altre armi Sono messo davvero bene Fere non Non ho bisogno di armi Sto facendo il gentile Allora ho lasciato dietro il pompa verde Non so se servirà qualcuno di loro Però io lo lascio lì Beh potete avvisare Non so neanche se lo vedranno però Vabbè ormai è troppo tardi Pazienza Vabbè li vedi? Uh sì Fuoco Foco Li vedo Vai andiamo Tutti all'arriscosso Ok ho colpito qualcuno Non so come ma Una terra Ok perfetto Costruiscono tanto eh Ok ho colpito uno Colpito uno Ok devo ricaricare Un'altra terra Sono dietro l'albero eh Quindi fate attenzione Quello col gatling cavolo A terra gong Ok oh no Voglio la pena kill Voglio la pena kill su ghost Sì Sì Ho eliminato anche the king Luca 05 Sì Bravissimi Bravissimi La kill su ghost L'avevo chiamata La volevo A tutti i costi Dai è qualcosa di bello La king Non riesco neanche a dirla Kill su ghost Uh mi sparano Mi sparano 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 Non so da dove Da dove fare Non lo so Questo Io però questa la voglio Lo voglio Non la sta prendendo nessuno Prima la prendo Un po' di munizioni Un po' di munizioni Io sto ancora ridendo Non riesco a capacitarmi Della kill su ghost Beh prima o poi Non mi va a capitare Io l'ho visto da lontano Visti 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 255 Mi hanno anche riconosciuto Di sicuro Ok Beh sei solo tu Con sta skin Poi staff Oh io non li vedo ancora eh Di fronte a noi Ma ho buttato l'RPG Ah no Mi stavo confondendo Aspetta Ti faccio vedere In quella casa Aspetta ma ce l'ho anche io Vedi Vai vai Uh li ho anche colpiti Con l'RPG Ma è strabello Ho buttato Mi sa una terra No no è stato Giacomo Bravo Giacomo Ok Vai staff Allora Ce n'è ancora uno vivo Che tristezza Sì suppongo di sì Ok Sparano da un altro lato Feri mi hanno sfiorato Sparando E comunque uno ci sta arrivando Adosso col trampolino Eccolo eccolo Sì 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 Qui sotto Colpito Ok morto Ok vai 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 Eh Dicevo ci hanno sparato Da un altro lato Non so minimamente da dove Prendo munizioni Perché le stavo finendo Eh pure a me servono 138 ne ho Tu quante ne hai Eh 120 Ok occhio Perché stavano sparando Giaco sta sparando Verso 330 Lo vedi Sì Ok andiamo 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 Siamo fuori dalla zona Ma comunque manca ancora Un po' di tempo Io non vedo chi spara Però stanno sparando Anche con altri Eh mi sa di sì Mi sa di sì Che c'è la mega rissa Sì 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 Credo di sì Ma qualcuno è qua sotto Eh sì che è qua sotto Dove Ma dove Dove Uno lo vedo Ah lo vedi Lo vedi Sì 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 Uh bravissimi Ok l'ho colpito Aspetta va Fede spara Io non ho più munizioni Di quello È una tristezza Ok è morto Ok 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 però Stiamo andando tutti bene Sia Ale che gioco Stiamo andando tutti bene Perché mi sono dovuto Lanciare così Ma non lo so Ma non lo so Non è molto intelligente Allora Mi servono munizioni No Ho provato a fare una piattaforma Ma non me l'ha fatta fare Che noia Quindi ho preso danno lo stesso Vabbè Pazienza Mi tiro Un medikit Ok Ogni tanto guarda un pochino intorno Se vedi altri player Adesso mi devo recuperare Il fucile a pompa Nuovo airdrop Siamo rimasti in 14 Io ho 5 kill E tu ne hai una Ok Eh perché poi Tante ne hanno fatto Ale già Sì 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 Ne hanno fatte parecchie anche loro Ah vedi Qua era morto qualcun altro Qui sotto Magari controllo se ci sono anche delle munizioni Sì 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 Perché ne ho solo 79 No penso che l'abbia già luttato Ho già coale Perché ho visto qualcuno li ha covacciato Forse giaco quindi Ok Materiali 452 Qua c'è un ponte Andiamo di nuovo dentro la zona? Sì Let's go Let's go Let's go Stai sta andando bene comunque Stiamo giocando tutti bene Quindi Bellissimo team Ti sto casando È incredibile Team è davvero perfetto Eh sì Allora Dai 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 Che la voglio vincere La voglio vincere Ci siamo Siamo di nuovo dentro la zona Non sento sparare Beh vabbè Ora siamo a 14 Ora siamo pochini Airdrop lo vedi? Molto vicino Ok Sentiamo se qualcuno lo apre Si stanno bullando lì Fere ci sono player Vai 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 Ci sono player all'airdrop Andiamo 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 Ok Ho parlato un po' Oh occhio 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 Da dove? Sì Ha ragione Ma da dove però? Lì 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 Li vedi Li vedi dietro la montagna Sì 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 Ok Allora qui invece quanti ne abbiamo Fere ce la fai tu lì? Eh sì Allora sto cercando di coprire le spalle Quanti sono? Non lo so perché ne ho visto uno che poi si è rifugiato dietro la montagna e non ho visto nessun altro L'albero Non ci credo che le foglie bloccano lì lì Non lo sapevo No 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 Granate granate Aspetta Via 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 Ok Sono sopra Sono sopra Li vedo li vedo Sono anche fuori dalla zona credo O no Cerca di colpire Stanno colpendo anche me Eh fere Vabbè Mi ha buttato giù l'albero Uno è sceso Credo che abbia preso dei danni Eh volevo cercare Ok gioco sta riportando in vitale Volevo cercare di riportarlo in vitale Ma mi devo spostare Mi devo spostare Corro 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 Ok Che casino Che casino Costruisco Che cosciamazzolo Allora Aspetta Perché tanto loro sono fuori dalla zona Quindi sono obbligati un po' a correre Ah mi bevo due cildini Ehi Hai cure? Ok c'è qualcuno che spare Mi trago Sono io Ok Porca miseria Ok Grazie Mi hai salvato la vita Una a terra Ok Ale mi ha totalmente salvato la vita Ah Che bella No 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 Gioco no ti prego Io mi sto ricaricando al campfire Quindi fai attenzione Ok Perché ero davvero senza vita Dov'è? Lentissimo Lentissimo Sì Porca miseria Sì L'ho fatto esplodere l'ultimo Eh bravi questi comunque Sì 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 Questi sono giocati davvero bene Bravi 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 Allora prendi munizioni Prendi colpi Prendi tutto quello che ti serve Mi servono sicuramente delle cure Delle cure Delle cure Vedo bende Vedo bende Vedo bende Per ora Per ora prendo queste Scarepico non so se ti serve Il pompa blu di sicuro io me lo prendo Il gatling già ce l'ho Cecchino ce l'ho leggendario Quindi sono a posto Mi servirebbero munizioni Ricarico tutti Di che cosa? Del tipo anche della mitraglietta Cioè del minigun Perché non ne ho Tieni del minigun Vabbè dai lascia perdere Lascia così Vanno bene anche queste Anche perché Occhio che ci sparano davanti C'è già di nuovo risa a quanto pare Sì 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 Sto ricaricando anche i miei missili Bravo Ale Bravo 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 Ah una qua Ok 70 di vita in meno Uno ci sale da sopra Ok l'ho fatto cadere Dov'è dove 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 35 di shield in meno Ok sto ricaricando Uno è giù Occhio eh Occhio che sono davvero tanti Oh 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 Mi colpiscono Uno è giù Ne manca solo uno Mamma mia Perfetto Bravi 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 Siamo tre contro tre Siamo tre contro tre Allora il trampolino Perfetto Munizioni 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 Vado 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 Prendo tutto Prendo tutto Prendo tutto Cade lì Dov'è caduto l'airdrop Lì sopra Ma dai Non lo so C'è il cicchino leggendario Io ce l'ho già Io me lo prendo Io ce l'ho già Io me lo prendo Sto punto mi levo Allora ricaricato 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 Vado a prendere questo airdrop Vediamo cosa c'è Tanto materiali sì Non ne sto sprecando Perché ne ho parecchi Vediamo Scarrelle leggendario E poi scillini Fere Da dove Non lo so Allora stanno sparando Verso Ale mi pare Ok Perché lui ha costruito Mi tiro scillini e arrivo Prendo di nuovo lo scar Ok uno l'ho buttato giù Cercando di capire L'ha ucciso L'ha ucciso L'ha ucciso Ne mancano solo due Ok Siamo tre contro due Allora 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 Quanti chi l'hai? No io ancora una Cioè le state facendo tutte voi Le avete prese tutte E' uno sterminio Cioè anche Ale ha sterminato tutti Con Giacomo pure Mi dispiace per Giacomo Che non è arrivato Qua c'è un tipo Che non è arrivato alla fine Ok buttato una terra Accidenti Un altro qua Un altro qua E' l'ultimo E' l'ultimo Vai Yes Bravi Giacomo Bravi Ale Che team perfetto Che abbiamo Grazie Che team Aprimi il microfono Che team perfetto Bravi 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 Bell game E' stato bello questo E' stato un bel game Accidenti Quelli tra gli ultimi Che abbiamo dovuto ammazzare E' erano stati davvero bravi Ci hanno messo in difficoltà Quelli che sono rimasti in vita Alla fine comunque Sono stati tutti bravi E beh E' bello giocarsela Comunque così Bello Sono emozionato Fantastico E' stato fantastico Che spettacolo Che spettacolo Bello bello Però io Alle 0825 Lo devo aggiungere Anche io Cioè bisogna aggiungerle Alle amici E anche Giacomo Voglio cercare Andiamo a cercare Giacomo Andiamo a cercare Giacomo E' molto più giù Ma mi ha fatto troppissime Però io non so l'alfabeto Con pure l'inglese La J Devi andare dalla J Non c'ero Perché me l'ha tolto L'avevo visto Giacomo 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 Io non lo vedo Forse non mi ha aggiunto No io mi sa che l'ho visto J J J J No mi si resetta Vabbè poi lo cerco dopo Comunque game fantastici Davvero davvero belli I prossimi li faremo più particolari Ovvero che scriveremo Nel community post Tipo scendiamo tutti In una città E cose del genere Che sarà un delirio incredibile Però è davvero divertente Quindi di sicuro Ne faremo altri Grazie mille a tutti quelli Che hanno partecipato A questi primi due match Ne faremo sicuramente altri Durante la settimana Di pomeriggio Barra sera E ci divertiremo un sacco Ragazzi Lasciateci un like E' sempre molto Che il nostro video Potete considerare I dati iscrivervi Per non perderevi E altri pisioni Ciao alla prossima Ciao 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 Ciao